Passo falso del Campobasso, 0-0 contro un Giulianova coriaceo ma modesto. Il punto piace moltissimo a Bitetto, non può dire la stessa cosa a Cudini che deve ritrovare lo smalto dei suoi perso da qualche tempo a questa parte. Prologo della gara dedicato ai due neosoci statunitensi Matt Rizzetta e Nichi Cirrincione accolti con affetto da qualche tifoso presente prima del match. I due neodirigenti rosso-blu promettono di portare il Campobasso degli underdogs nel professionismo. Dirige il signor Moretti di Valdarno, Campobasso abbastanza svagato, Giulianova fa una gara ordinata, succede poco in fatto di cronaca, al 26esimo la corsa di Vitali premia Esposito che però spara altissimo. Cudini comanda quasi subito il riscaldamento dei panchinari mentre Bitetto vive con foga la partita dalla panchina. I Giuliesi si concedono contropiede interessanti, al 29esimo rosso-blu anche sfortunati sulla conclusione vellutata di Esposito dal limite. C'è l'intercettamento di Cogliati che per poco non beffa Amadio. Campobasso abbastanza involuto ma che riesce a darsi una scossa soltanto nel finale di tempo al 37esimo Vitali. Intercetta un taglio da sinistra ma Amadio blocca un quasi replay solo due minuti più tardi quando il pallone è crossato da Cogliati e ha staccato da Vitali. Grande la parata di Amadio che poi si ripete in maniera prodigiosa anche su bontà. La migliore palla gol del primo tempo rosso-blu. I campobassani insistono al 44esimo Esposito va verso la porta. La conclusione subisce la deviazione di Ancinelli in angolo. Campobasso Giulianova è condensata in queste occasioni con i rosso-blu che non ci stanno a farsi imporre il pari dai Giuliesi. Il lupo sembra avere un piglio diverso nella seconda parte. Al quarto da Vanzanna Cogliati che chiude al lato di pochi metri. Deve passare un soltanto minuto per il tiro da fuori dello stesso Cogliati con respinta spettacolare di Amadio. Al sesto lo stesso portiere Giuliese a seguito di un'uscita frana addosso a Cogliati che rimane a terra tramortito. Tutto regolare per il signor Moretti di Valdarno. Il campobasso potrebbe passare all'ottavo e il palo a strozzare l'urlo in gola Vitali che si gira in area. Ma con i tempi giusti i rosso-blu hanno tutto un altro ritmo. Comincia la girandola di Cambi. Bitetto fa entrare Battilana e Paudice al posto di De Cerchio e Campagnacci. Mentre Cudini inserisce dal diciannovesimo Sforzini nel luogo di Brenci. Campobasso in campo con quattro attaccanti. Al ventottesimo dopo contatto tra Sforzini e Ferrini l'attaccante di casa è l'arbitro. Si scambiano solo sguardi ma nessuna protesta da parte di Sforzini. Quest'ultimo alla mezz'ora colpisce di testa su corner di Esposito e anticipa Amadio. Ma la palla termina a lato. Al trentacinquesimo punizione di Esposito. Torre di Sforzini al centro. C'è il gol di Tacco di Bontà che viene annullato per fuorigioco dello stesso Sforzini. Nero su blu dentro Di Domenico Antonio al posto di Cogliati. Dal trentacinquesimo al trentanovesimo punizione di Di Domenico Antonio. Esce Amadio, tapin di Bontà che si alza di qualche metro sulla traversa. Il Campobasso attacca ma lo fa senza incisività e lucidità. Il direttore di gara comanda ben sette minuti di recupero nel corso dei quali siamo al novantaduesimo. Sono i giuliesi a costruirsi la loro migliore pallagol della partita con un'azione condotta da Danna sulla fascia destra. Ed il pallone che perviene a Cipriani in posizione centrale il quale calcia alto sopra la trasversale. I rosso-blu si riservano un'altra pallagol rilevante un minuto più tardi dal cross di Di Domenico Antonio. Arriva lo stacqua ad incrociare Di Bontà con la sfera che sorvola la traversa. Tutta qui Campobasso Giulianova che non è stata una bella gara caratterizzata da un Campobasso abulico e da un avversario che ha difeso con tutte le sue forze il punticino. Per i giuliesi è un risultato oltre le aspettative. Per il Campobasso un raffreddore che deve chiamare i tecnici rosso-blu a qualche riflessione. In sala stampa al termine della gara saluto fra Gesuerri, Zetta e la stampa presente. I due amareggiati per il risultato finale ma inclini a raccomandare alla piazza di rimanere positivi viste le buone intenzioni della società rosso-blu.